nel tutorial di oggi andiamo a vedere come personalizzare una confezione di tic tac si possono utilizzare sia per riparti ma anche come bomboniere quindi iniziamo subito a fare il progetto andiamo a far clic sul pulsante forme io vado a scegliere un quadrato sblocco le proporzioni con questo lucchetto e vado a mettere una dimensione di 4,2 cm per 6,3 di altezza a questo punto vado a metterlo di un altro colore almeno temporaneamente in modo che voi possate vedere meglio ciò che sto facendo ora duplica il mio rettangolo e vado a mettere una dimensione di 1,45 di altezza quindi lascio la larghezza invariata sblocco le proporzioni si può fare anche da qua sopra e vado a mettere appunto 1,45 ora lo posiziono qua in questo modo adesso duplico il rettangolo di nuovo precedente quindi quello grande e lo posiziono di nuovo qua a questo punto vado a mettere un'altra diciamo un altro rettangolino tipo questo quindi prendo questo lo duplico e vado a selezionarlo qua sopra cioè vado a spostarlo scusate qua sopra non lo metto questa volta di un'altezza di 1,5 ma metto un'altezza di 1,6 quindi un pochino più grossa del precedente nel frattempo andiamo a selezionare tutto e facciamo allinea centro orizzontalmente ecco che in questo modo abbiamo centrato il tutto a questo punto andiamo a prendere un'altra forma per esempio questa vado a duplicare un rettangolo qualsiasi e vado a sbloccare le proporzioni lo ingrandisco un po' in questa volta non avete bisogno di mettere delle dimensioni particolari andiamo a metterlo però più o meno al centro comunque leggermente più in basso rispetto al centro quindi una cosa di questo genere adesso selezioniamo un rettangolo selezioniamo quest'altra forma e facciamo clic sul pulsante dividi ora cancelliamo tutte queste parti in abbondanza che non ci servono ci rimane questo andiamo su capovolgi verticalmente adesso andiamo di nuovo su menu funzionamento e andiamo a colorarlo in questo modo quindi posizioniamolo qua sopra dobbiamo metterlo però di nuovo di una larghezza di 4,2 quindi andiamo a anzi manteniamo il blocco delle proporzioni e facciamo 4,2 ed ecco qua a questo punto dobbiamo andare a mettere delle altre alette cioè andarle a mettere di qua quindi prendiamo anche in questo caso un rettangolo giriamolo cioè ruotiamolo in questo modo andiamo qua sulla rotazione a metterla rotazione corretta quindi mettiamo 90 gradi l'aletta andiamo a farla di 1,5 mettiamo quindi 1,5 l'altezza invece deve essere la stessa di questo rettangolo quindi di circa 6,3 eccolo qua andiamo a posizionare questa volta l'aletta qui in questo punto poi andiamo a metterla poi con maggior precisione ovviamente 6,3 è il rettangolo che abbiamo fatto inizialmente però c'è qualche piccola sovrapposizione dei rettangoli questi sopra e questi sotto quindi sarà leggermente meno andiamo a ingrandire un po' per vederlo con maggior precisione ecco qua vedete che è appena un pochino meno quindi posizioniamolo prima di tutto alla stessa altezza poi facciamo una cosa di questo genere qui quindi mettiamo proprio preciso 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 alla linea di taglio eccolo qua e a questo punto riduciamo di nuovo le dimensioni andiamo a duplicare ne mettiamo un'altra qua prendiamole tutti e due insieme facciamo allinea in alto una volta allineate duplichiamole e mettiamole dalla parte opposta ed ecco qua a questo punto dobbiamo solo controllare bene che la sovrapposizione sia corretta ingrandite sempre vedete che non è proprio perfettissima quindi mi raccomando controllate sempre perché se no quando andiamo a fare clic sul pulsante fondi ovviamente non sarà tutto perfetto quindi anche in questo caso rifacciamo all'allineamento perché ovviamente l'abbiamo spostati quindi quando si spostano bisogna di nuovo fare l'allineamento adesso riduciamo di nuovo un attimo le dimensioni dell'area di progettazione andiamo a prendere un'altra forma quindi un trapezio eccolo qui allora prima di tutto facciamo capovolgi verticalmente quindi lo mettiamo in qua riduciamo le dimensioni diciamo una cosa di questo genere dobbiamo metterlo di circa 1,5 ecco qua e andiamo a metterla qui in questa aletta mettiamo il colore azzurro anche in questo caso così è tutto più semplice ovviamente ripeto ci deve essere sempre una piccolissima sovrapposizione andiamo a ingrandire di nuovo un po' così vediamo se dobbiamo ridimensionare leggermente facciamo così ecco così più corretta adesso duplichiamola e andiamo a metterla anche qua in questo modo ovviamente sono cose che vanno fatte con la massima precisione adesso io sto facendo come sempre un po' velocemente però mi raccomando prima di fare fondi eccetera eccetera controllate tutto se avete paura poi di sbagliare in un secondo momento fate una cosa di questo genere quindi duplicate raggruppate e nascondete il gruppo in questo modo se per caso avete sbagliato qualcosa a termine progetto riuscite ancora a recuperare se non dovete rifare tutto tutto da capo allora adesso riselezioniamo questi per sicurezza e facciamo di nuovo allinea centro orizzontalmente controllate sempre mi raccomando gli allineamenti adesso controlliamo anche gli allineamenti qua quindi facciamo allinea in alto ok e adesso anche queste due alette ovviamente controlliamo le facciamo sempre allinea in alto vedete che qua non so se riuscite a vedere questa parte vedete che questa nera è più scura degli altri probabilmente la sua posizione non è perfettissima quindi andiamo vedete io l'ho posizionato un pochino più giù adesso la linea è sottile ed è quello che dovete ottenere perché poi quando andiamo a far clic sul pulsante fondi niente di grave si fa nulla e si ripete l'operazione però comunque in ogni caso dovete appunto eseguire un'operazione in più andiamo adesso a far clic sul pulsante forme vado a selezionare una linea di cordonatura vi ricordo che adesso è la prima sul pulsante forme mentre un tempo era l'ultima quindi andiamo qui andiamo a posizionare le linee di cordonatura in corrispondenza di quelle di taglio quindi duplichiamo mettiamole qui anche questi mi raccomando io adesso mi faccio vedere tutte le procedure però vanno allineate una per uno duplichiamo anche qua ecco poi duplichiamo ancora e andiamo adesso a posizionarle in orizzontale quindi qua andiamo a mettere 90 gradi ecco qui mettiamo della dimensione giusta ecco duplichiamo mettiamola anche qui duplichiamo ancora mettiamo qua e poi mettiamo l'ultima una volta messe tutte le linee di cordonatura andiamo a selezionarle o per meglio dire andiamo a fare clic su questo occhietto per nasconderle è importante che le mettiate prima perché riuscite a posizionarle correttamente sopra le linee di taglio una volta che le avete nascoste tutte selezionate tutto in questo modo oppure fate clic sul pulsante qua che si chiama seleziona tutto e fate clic sul pulsante fondi ora vediamo se le sovrapposizioni sono state fatte tutte correttamente ecco vedete che sono corrette adesso andiamo a fare clic su disponi in fondo e adesso visualizziamo di nuovo tutte le linee di cordonatura possiamo farle volendo anche in un secondo momento la visualizzazione delle linee di cordonatura adesso selezioniamo questa sagoma qua che è la sagoma principale ovviamente le linee di cordonatura vanno messe anche qua mi sono dimenticato solo di farvi vedere questo passaggio quindi riduciamo ancora un pochino più piccola andiamo a posizionarla qui e duplichiamola e posizioniamo anche qua ok allora come dicevo andiamo adesso a selezionare la sagoma qua sotto andiamo su menu funzionamento stampa prima del taglio a questo punto andiamo a prendere il pattern il motivo che ci piace quindi andiamo su colore poi motivo io vado a fare clic su filtro per caricare i motivi di questo colore e vado a selezionare questo una volta aggiunto il motivo vado a fare un'altra cosa quindi a fare l'etichetta della confezione quindi andiamo prima di tutto a salvare e scriviamo confezione tic tac parti e andiamo a fare clic sul pulsante salva a questo punto andiamo sul pulsante forme andiamo a mettere un quadrato in questo modo e lo mettiamo di una dimensione di 2,3 per 3,2 quindi 2,3 per 3,2 eccolo qua allora abbiamo fatto la prima parte ve la metto in uno di colore azzurro così la vedete meglio duplichiamola lasciamo sempre una larghezza di 3,2 ma facciamo un'altezza di 1,6 quindi sblocchiamo le proporzioni mettiamo 1,6 posizioniamolo qua duplichiamo adesso di nuovo questa vedete che fare l'etichetta ci si impiega proprio veramente un secondo facciamo la selezione di tutti allinea centro-orizzontalmente adesso andiamo a prendere le forme ruotiamo mettiamola sempre di 90 gradi andiamo a metterla di 2,3 e posizioniamola qui duplichiamola e andiamo a posizionarla qua in questo modo ora come prima nascondiamo temporaneamente le linee di coordonatura facciamo così e poi clic su pulsante fondi a questo punto visualizziamo di nuovo le linee di coordonatura prendiamo questo e spostiamolo qui in basso adesso selezioniamo di nuovo il rettangolo base e mettiamo volendo lo stesso pattern oppure un altro adesso per velocizzare io metto lo stesso faccio sempre clic su filtro metto rosa e bianco e seleziono il mio pattern questa volta però lo vado a ingrandire quindi faccio modifica modello e ingrandisco un pochino che sia un po' più simile all'altro anche se non proprio necessariamente identico eccolo qua adesso mi è ingrandito il pattern andiamo adesso ad aggiungere del testo prima però salviamo come sempre mi raccomando salvate sempre i vostri progetti più volte andiamo a fare clic appunto sul pulsante testo scriviamo per esempio Sara facciamo così e andiamo a cercare un font allora vi dico subito che ho un computer nuovo quindi praticamente ho finito ieri sera di fare tutto di fare tutte le installazioni quindi non ho i font sul mio computer quindi ne metterò uno a caso qua di Cricade Design Space vediamo quale posso andare a mettere per esempio questo Glow Warm che è molto bello eccolo andiamo adesso a andiamo adesso a cambiare colore metto questo poi vado a fare clic sul pulsante avanzate e vado a cambiare il colore metto per esempio un colore di questo genere riduco la dimensione adesso prima di tutto ve lo faccio vedere un pochino più grande perché se no non riuscite a vedere neanche quello che sto facendo riduco la dimensione in questo modo e lo vado a mettere qua volendo possiamo andare a aggiungere un offset quindi andiamo a fare clic qua su offset lo metto di 0,03 faccio applica a questo punto vado a aggiungere del testo qua metto un anno quindi quindi vado a mettere allineamento centrato e ovviamente andiamo a ridurre le dimensioni ecco qua cambiamo di nuovo il colore e mettiamo di nuovo l'offset come prima quindi mettiamolo sempre di 0,03 e facciamo applica a questo punto andiamo a prendere entrambi quindi l'uno e l'offset e facciamo duplica ecco qua una volta duplicato facciamo capovolgi orizzontalmente e poi capovolgi verticalmente adesso prendiamo questi e poi questi quindi di nuovo l'uno poi la scritta facciamo allinea centro-orizzontalmente una volta centrato tutto ovviamente dobbiamo solo guardare l'altezza per esempio vedete che questo è un pochino più in alto rispetto all'altro una volta fatto una cosa di questo genere andiamo a nascondere temporaneamente le linee di coordonatura qua dal pannello livelli facciamo così e poi unisci i livelli una volta uniti i livelli andiamo di nuovo a visualizzare le linee di coordonatura spostiamo questo in basso facciamo così e facciamo collega salviamo di nuovo adesso finiamo le ultime cose della nostra scatolina andiamo a prendere per esempio un'immagine prima però andiamo a fare una cosa di questo genere cioè andiamo a posizionare questa qua in modo che riusciamo a capire qual è l'altezza indicativa dell'etichetta poi andiamo a fare clic sul pulsante forme prendiamo un cerchio andiamo a posizionarlo qua sotto facciamo una cosa di questo genere eventualmente possiamo sformarlo sbloccando le proporzioni fare una sorta di piccolo ellisse quindi una cosa di questo genere mettiamola appena un pochino più giù mettiamolo bianco in modo che riusciamo a vedere più o meno avere un senso del risultato finale dopodiché duplichiamolo andiamo a metterlo qua duplichiamolo ancora e questo qua diminuiamo un pochino di dimensione adesso facciamo così facciamo allinea centro-orizzontalmente centro-verticalmente e poi facciamo dividi cancelliamo questo cancelliamo questo e manteniamo il nostro bordo andiamo a metterlo dello stesso rosa che abbiamo utilizzato per la scritta e posizioniamolo qua in questo modo ora andiamo come vi dicevo a prendere un'immagine io l'ho già caricata eccola qua facciamo aggiungi alle tele ovviamente è enorme mettiamo un pochino più piccolo ridimensioniamo facciamo capovolgi rivolgi orizzontalmente lo mettiamo dalla parte opposta facciamo una cosa di questo genere ingrandiamolo un pochino volendo possiamo fare che esca un pochino qua vedete che l'ho fatto uscire un po' dalle linee di cordonatura vedete voi come ovviamente vi piace di più e andiamo a mettere un piccolo offset mettiamolo per esempio di 0,12 ecco una cosa di questo già vedete che si vede già in anteprima facciamo applica andiamo adesso a mettere il colore rosa ora selezioniamo l'offset selezioniamo l'immagine e selezioniamo l'anello questo è importante nient'altro facciamo unisci livelli una volta fatto una cosa di questo genere andiamo a collegare tutto il resto temporaneamente nascondiamo questo così non ci dà fastidio riduciamo un attimo le dimensioni spostiamo questo e facciamo una cosa di questo genere colleghiamo tutto io questo qua l'ho collegato non ho fatto clic sul pulsante dividi semplicemente per il fatto che semmai la posizione non fosse giusta o volesse cambiare per qualche motivo qualcosa per esempio se fate dei progetti già preimpostati e poi magari un cliente vi chiede non lo so magari al posto delle liste così in questo modo oppure al posto del passeggino come siamo andati a mettere adesso vuole un'altra cosa magari è possibile che queste liste dobbiate modificare magari come dimensione come posizione quindi se l'ho collegato lo potete modificare in qualsiasi momento se dividete ogni volta dovete rifare il progetto da capo quindi a questo punto andiamo a visualizzare nuovamente anche il passeggino mettiamolo solo in alto ecco qui ed ecco questo è diciamo il risultato finale che otteniamo allora vi faccio vedere un attimo cosa succede se vado a far clic sul pulsante crealo eccolo qua allora cosa succede che giustamente vi sta tutto in un foglio però diciamo che l'etichetta idealmente andrebbe stampata appunto su un foglio per etichette mentre questo su un cartoncino perché stiamo facendo una scatola è la stessa cosa di casi per il nostro passeggino quindi in teoria dobbiamo andare indietro nascondere temporaneamente questo fare clic sul pulsante crealo mandare in stampa solo questo dopodiché facciamo il contrario nascondiamo questo e mettiamo la visualizzazione dell'etichetta quindi andiamo qua a fare clic semplicemente sul pulsante continua andiamo a inviare alla stampante prima di tutto e poi andiamo a eseguire il taglio e adesso andiamo a vedere anche l'assemblaggio eccole qua queste sono le cose che abbiamo appena tagliato con maker taglio sempre precisissimo qua invece io vi ho fatto vedere due tipi di etichette adesso vi dico anche perché cioè ci sono queste due modalità vedete voi poi quale preferite la prima cosa che andiamo a fare è prendere questa sagoma che siamo andati a tagliare in cartoncino quindi per la nostra scatolina e andiamo a piegare in corrispondenza delle linee di cordonatura fate sempre così pollice indice insieme e andiamo appunto a eseguire tutte le pieghe in questo modo una volta eseguite tutte le pieghe in corrispondenza delle linee di cordonatura questo è il risultato poi andremo a vedere bene come montare la scatolina comunque già qua riuscite a vedere una piccola anteprima andiamo adesso a attaccare questo quindi il cerchio che c'è qua sopra o per meglio dire il bordino del nostro cerchio in corrispondenza appunto del foro io adesso l'ho fatta uno strato però è anche bello farlo magari a doppio strato quindi come sempre utilizzate colla vinilica io vado a utilizzare la colla a caldo per far più veloce durante il tutorial ma vi consiglio vivamente colla vinilica quindi andiamo a fare una cosa di questo genere ne metto proprio una punta io ovviamente perché ripeto utilizzando colla a caldo se no non è il massimo quindi posizioniamola qua e andiamo io adesso vado a mettere anche una punta di colla qui sotto non so se riuscite a vedere insomma sostanzialmente in corrispondenza dei palloncini come vi dicevo vedete ho fatto in modo che uscisse leggermente rispetto alla piega che si trova qua per dargli un pochino più di movimento allora passiamo adesso alle etichette allora ci sono due modalità di fare le etichette io ve le faccio vedere entrambe così ripeto vi fate già un'idea e vedete quale preferite chiaramente queste qua sono tic tac alla mente di conseguenza l'etichetta fuori e sul verde ci sono appunto due modalità una è quella di fare l'etichetta così cioè di questa dimensione quindi un pochino più piccola intorno a circa 2,3 in questo modo escono praticamente le parti colorate dell'etichetta del tic tac secondo me è molto carina ma c'è molto carino fare questo effetto però dovete sempre farlo in tinta cioè nel caso il rosa con il verde no eventualmente potete fare anche scegliere anche questa opzione quindi vedete che in questo modo vado a coprirla totalmente qua ci sono anche le due linee di cordonatura qua sopra c'è la scritta Sara e ovviamente anche nella parte di dietro ci sarà la scritta io preferisco farlo in questo modo quando appunto voglio coprire totalmente il colore dell'etichetta che c'è sotto quindi adesso andiamo a togliere qua il supporto dietro il retro della nostra etichetta e andiamo ad attaccarla ovviamente dovete essere precisissimi io ho lasciato un pelino di spazio dietro per il codice a barre però eventualmente potete anche o farla un po' più lunga oppure aggiungere il codice a barre dietro quindi adesso attacchiamo bene la nostra etichetta e proseguiamo guardate un po' quant'è carina quindi abbiamo messo l'etichettina qua la parte sopra c'è ovviamente dovete dire al contrario c'è la nostra scritta e a questo punto andiamo a metterla nella confezione quindi fare una cosina di questo genere dobbiamo semplicemente andare a attaccarlo qua dietro così la scatola quindi va incollata qui dove ci sono queste due alette ripeto adesso io utilizzerò la colla a caldo ma vi consiglio anche in questo caso di usare la vinilica guardate un pochino che carina dopo averla incollata vedete che qua c'è il diciamo l'aletta questa qua che abbiamo fatto noi la chiusura in questo modo quindi allora o diamo appena appena un punto di colla in modo che una persona possa aprirla in questo modo in alternativa possiamo semplicemente andare a chiudere così quindi scegliete voi come vi piace di più e a questo punto si possono aggiungere anche altri particolari per esempio io vi ho fatto vedere anzi vi ho preparato questa cosa questo è uno smart sticker cardstock quindi un materiale di cricut vedete che io sono andata a intagliare una scritta qui quindi una scritta semplicissima utilizzando lo stesso font e vado per esempio a posizionarla qua sopra sono molto comodi questi materiali perché non dovete incollare niente e per far stratificazione vedete ci sono dei tutorial comunque che vi insegnano come utilizzare la tecnica della stratificazione proprio con questo tipo di materiale cricut guardate qua semplicemente io adesso ripeto ho fatto una cosa molto semplice ma guardate subito che bell'effetto che è carina sono molto belle come bomboniere e anche come gadget per parti quindi si tratta di come la maggior parte di quelli che cerco di insegnarvi progetti molto semplici ma anche molto d'effetto a questo punto il tutorial è terminato vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it che potete iscrivervi al gruppo facebook cricut Silhouette Italia